Cari amici di protesta e sostenitori della scienza, oggi parliamo di nuovo di Edoardo Stoppa che con i suoi servizi sta facendo perdere credibilità a striscia la notizia. Il buon vecchio Stoppa, dopo aver immaginato inesistenti torture ai danni dei primati, infilato proprio nella scatola, che penetra la scatola cranica, giusto? Sì, sì. dichiarando insensatezze al limite della legalità. Su questi esperimenti, inoltre, non viene effettuato nessun tipo di controllo. Attribuendo a se stesso i video che noi di protesta abbiamo girato, confondendo la sapienza con il CNR. Ci eravamo già occupati degli esperimenti del CNR presso la sapienza di Roma, mettendo in evidenza le condizioni di detenzione dei primati sui quali vengono effettuati gli esperimenti. E chiedendo parere a persone non competenti in materia. Esperimenti condotti in questo modo possono essere predittivi per le malattie psichiatriche dell'uomo? E proprio no. Ha deciso ancora di occuparsi di questa delicata questione chiamata sperimentazione animale e non vivisezione, senza avere idea di quale argomento stia trattando. Oggi torniamo a parlare di sperimentazione animale e di vivisezione. Stop mostra un altro video di protesta dove il professor Caminiti chiede all'associazione animalista di creare centri adatti per poter reintegrare i primati e prova a contraddirlo dando una notizia a Fasulla. Sul nostro territorio ci sono già quattro strutture che si sono offerte per prenderli da oggi subito questi animali. Peccato che all'attuale nessuno di questi centri ha ancora fatto una richiesta ufficiale all'Ateneo. Quello che Stop ignora è che i nomi nella lista sono dei centri faunistici per il recupero di animali selvatici e non hanno strutture idonee e personale qualificato per la riabilitazione degli animali da laboratorio, in particolare i primati. Quindi Stop propone di spostare questi animali da una gabbia all'altra. Bella riabilitazione. Dopo i nostri servizi c'è stata una manifestazione degli animalisti europei e il professor Caminiti ha annunciato una contramanifestazione. Eccoci qui, in questo momento ci stiamo recando di fronte al dipartimento dove il professor Caminiti dovrebbe aspettarci con tutti i suoi sostenitori. Io non vedo i sostenitori. Quello che Stop non ha raccontato, forse di proposito, è che da parte degli animalisti ci sono state minacce molto gravi ai danni del professor Caminiti e degli studenti e quindi le forze dell'ordine, in accordo con il rettore della Sapienza, per tutelare gli studenti e il professore hanno suggerito di rimandare la manifestazione. Tuttavia alcuni studenti hanno comunque deciso di rimanere accanto al professore chiusi nei laboratori e protetti dalla polizia, mentre invece altri si sono riuniti in un'aula per manifestare lo stesso la loro solidarietà. Guardate un po' qui. Gli studenti della Sapienza e Protest dicono no alla cattiva informazione televisiva. Stop la disinformazione! Quindi ricapitoliamo. Un'anonima accusa il professor Caminiti per un reato mai commesso. Stop crea un caso mediatico. La gente si indigna contro il professore senza avere idea di che cosa accade realmente. Le associazioni animaliste a quel punto hanno un pretesto per manifestare e per presentare un esposto. Perché fuori su questa base che non abbiamo potuto presentare una denuncia corella nei confronti del professor Caminiti che ad oggi è indagato dalla Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica fa un'indagine per vedere se tali maltrattamenti sono reali. Ma ancora non hanno trovato nulla di illecito dato che addirittura il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno approvato gli esperimenti del professore. Purtroppo non tutti sanno la differenza fra un'accusa infondata e una condanna. Quindi a livello popolare la gente sarà indotta a pensare che il povero professor Caminiti è un criminale. Che sia questo il piano di stoppe delle associazioni animaliste? Tuttavia ci rimane impressa un'affermazione. Io non ne vedo i sostenitori. Secondo voi è vero che Stoppe non è mai riuscito a parlare con nessuno? Noi di Protest abbiamo qualcosa da mostrarvi. Stiamo andando, siamo in onda. Siamo in onda, abbiamo Giulia Corsini, Protest Italia. E Luca qualcosa, qualcosa. Noi vogliamo chiedere quali sono le sue referenze in qualità di giornalista scientifico per fare un servizio sulla sperimentazione animale. La prego ci risponda, ma ci risponda in maniera pertinente una volta tanto. La prego, signor Stoppe. Ci troviamo dovunque volete voi, in qualsiasi sede, con il professor Caminiti, uno scienziato che sia ovviamente dalla parte contrapposta. Io sto nel mezzo, ragazzi. Un neuroscienziato che sia dalla parte contrapposta. Un neuroscienziato. Un neuroscienziato. Lei è brava che la scienza si divide in parte. Un neuroscienziato. Quando ci sarà andato il chialzo del professor Caminiti, manderemo in onda di quelli. Noi ci rivolgeremo a giornalisti non parecchiati. Ma Caminiti è uno dei giornalisti più competenti. Esatto. Lo so.